Buongiorno a tutti, è un momento particolarmente importante nella vita del terzo stabile perché forse per la prima volta negli ultimi anni accade che l'idea di internazionalizzazione vada al di là della pur nobile dinamica degli scambi e si concretizzi con un'esperienza produttiva che vede effettivamente coinvolto un artista straniero sulle nostre scene, in realtà un artista straniero con una serie di importanti collaboratori e collaboratrici per la realizzazione di questo spettacolo che interagiscano con i nostri colleghi e quindi che effettivamente ci sia di là dello scambio di ospitalità di spettacolo, uno scambio di esperienze anche che entra nel merito del modello culturale e organizzativo del fare teatro, quindi del fare e del saper fare. E sono particolarmente orgoglioso perché pietro che questa prima importante esperienza internazionale per il nostro teatro avvenga grazie a Martin Cuceri, che è siede qui alla mia testa, che insomma capisce l'italiano, se no non mi sarei azzardato a parlare, ma nel caso avesse bisogno dell'assistenza c'è una ottima altra nottrice che è Milena Mastrovo che ha curato la maturgia di questo lavoro. E vi dicevo, sono particolarmente lieto che questa esperienza avvenga insieme a Martin. Ci siamo conosciuti Martin e noi del Teatro Stabile alcuni anni fa e abbiamo potuto scambiarci in spettacoli importanti per i rispettivi teatri. Noi siamo stati invitati al Teatro di Stato Vavarese, a Monaco Vavarese del Teatro con due produzioni, la serata colonna di Mami, un attore e quartette di Walter Malosti. Lui è stato ospitato da noi con Das Interview e più recentemente nel 2014 con una splendida edizione della Pietra Foncanti, che credo molti di voi, forse tutti avrete visto, che considero molto probabilmente lo spettacolo più bello che si è transitato sui nostri palcoscenici negli ultimi dieci anni. È uno spettacolo premiatissimo, avete capito del Faust Reiss che è il premio teatrale che si dà a tutti i paesi europei in Mastrovisca. Non vi parlerò specificamente del testo perché tocca a Martin farlo. Vi dico perché è così importante che Martin sia con noi. Martin è un grande maestro della scena europea e nella sua anima profondamente l'intero europeo, lui è austriaco di nascita, ha lavorato tantissimo in Germania, ma ha il cuore che batte per l'Italia e ama la cultura italiana. Quindi al di là di questo legame professionale c'è comunque una sua partecipazione culturale profonda e una curiosità anche nel scoprire le dinamiche di come si fa teatro in Italia. E questa è la prima ragione. L'altra ragione è perché Martin Cusley è stato protagonista di una carriera che voi tutti potrete leggere in un bellissimo articolato pubblico che l'ha portato tra l'altro nei più grandi teatri d'opera al mondo, ma soprattutto a mettere in scena un rettatorio sterminato. negli ultimi anni ha diretto con un successo incredibile il Restless Teatro di Nuovo di Baviera, che è un teatro importantissimo, sicuramente il teatro più solido, più importante, più ricco, bisogna dirlo, della Germania, che tra un paio d'anni andrà a dirigere il Burteatro di Vienna, che è il teatro forse più blasonato al mondo, anzi togliamo forse, che ha una quantità di dipendenti e un budget che fa invalidire qualsiasi altro teatro europeo. Questo è il coronamento, credo per lui, di una carriera d'austriaco che torna in patria come un Kaiser, come un tenatore, e quindi poterne godere, insomma, della collaborazione in questa sua fase fulgida ci riempie veramente di orgoglio. Per essere all'altezza della situazione abbiamo messo insieme con Marti un cast direi notevolissimo che si è leguiti attorno a noi, magari così ci sarà occasione per lasciare la parola intera loro e la parola battuta, e la grande occasione è un testo di un autore praticamente sconosciuto in Italia, che oggi viene considerato negli Stati Uniti il più grande autore di teatro, classe 1970, e che dice che in Pakistan è mai nato in Rioog. Il suo Chris Grace ha vinto il premio Pulitzer, il premio Hopi, ed è stato nella stagione 15-16 il premio, il testo più rappresentato della scena statunitense. Si sono contate quasi una ventina di produzioni diverse. In Europa è dilagante nei paesi di lingua tedesca, io arrivo da Parigi, ieri ne ho parlato con alcuni colleghi di vari teatri europei, non è affatto conosciuto negli altri paesi, quindi a Marti va anche la riconoscenza per aver portato per la prima volta questo autore sulle scelte italiane e avercelo fatto scoprire. Aftar è un caso esemplare di americano-musulmano e a questo tema ha dedicato buona parte della sua ricerca per la pubblicità dopo l'11 settembre. Mi piace ricordare che era anche un piccolo trascorso italiano perché da ragazzo, subito dopo aver stasi laureato, ha trascorso qualche mese nelle campagne toscane in Italia con Trottoschi. Insomma, diciamo che ci sono tutta una serie di coincidenze astrali perché questo testo lascia il segno della storia recente del teatro stabile e soprattutto solleciti il gusto del nostro pubblico rispetto a una proposta. Non voglio usare un termine di rottura perché il linguaggio di Marti è un linguaggio fortemente radicato nella tradizione teatrale europea, ma sicuramente apre finestre e sguardi in ambiti stilistici un po' diversi da quello che il nostro pubblico, il pubblico italiano, è abituato magari un po' migramente ad affrontare. Diciamo che Marti ci porterà al di fuori della comfort zone alla quale siamo troppo spesso abituati, però a questo punto mi addentro su temi del testo e sulla sua lettura che è meglio lasciare la sua voce. Grazie. Buongiorno. Mi sento un po' strano non parlare italiano perché voglio dare un'impressione della mia mente nelle ultime sei settimane, che avevano 4 lingue in mia mente e mi sento un po' strano perché ho sempre stato stato un po' italiano. E gli altri miei amici dicono che è aumentata. Ma ovviamente il tradizionale, ma ho sempre parlato di slovino, che è venuto in inglese e questo è stato un disastro. So, adesso spreche un po' di tedesco, ma capisco l'italiano. So, e Milena mi piace di usare. Parla tedesco in questo momento, ma capisco l'italiano, quindi si parte delle domande molto correntemente nei capiralli, non per il tocco, e io traduzco quello che lui dice. Filippo ha già detto quasi tutto. Filippo ha già detto tutto? Si. Filippo ha già detto tutto? Filippo ha già detto tutto? Filippo ha già detto che è un'attività di Tore, che è un'attività di Tore. E anche una grande felicità. Per me è un'attività di un'attività di Tore. E questo è un'attività di Tore, molto importante e che mi fa molto divertente. Quindi non ho bisogno di avere il loro Geld, ma ho bisogno di avere il loro Spasso e la Freude. che è un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di Tore. Io ho già lavorato in tutto Europa, anche in Schauspiel, soprattutto in Slovenia, perché ho anche un'attività di oestero. Io vorrei dire, che è un'attività di Tore, che è un'attività di Tore. e di a Trieste che è la sua città della mia preferita. Non solo in Italiense, ma anche in Italiense. L'attività di Tore. Allora, preferisci Trieste, in qualsiasi città di Senni? che è un'attività di Tore. Vino, mare, montagna, Austria, Slovenia, Italia, che è un'attività di Tore. Un'attività di Tore. Io credo in Europa, io credo in questa idea dell'Europa e io credo, che anche di un'attività di Tore un'attività di Tore un'attività di Tore e credo veramente nella idea dell'Europa e penso in particolare nella idea dell'Europa, della concezione dell'Europa e penso che proprio la gente di Tore abbia, diciamo, una posizione privilegiata che riuscire a alimentare questo scambio culturale a livello internazionale. Adesso, appunto, con questo gran Discracy che abbiamo scelto un po' diciamo come come un male nome di tradurre come Discrini io vi accompagnare almeno con un sottotitolo con Discrini che però non si nasce e occorre così facilmente l'italiano e infatti è stata appunto, come dicevo, una scelta di ripieno. Mir scheint, dieses Stück aber auch inhaltlich etwas tematisiert, was meiner Kenntnis nach, meines Wissens nach hier auf italienischem in Teatretunern überhaupt noch nicht debattiert wurde, also die Frage nach von Islam, nach islamischen Fragestellungen, die, das Verbot des Schleidertragens oder z.B. auch einer Parallelkultur, einer islamischen Gesellschaft, die praktisch parallel zur eventuell italienischen Gesellschaft entsteht oder 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 z.B. Dinge, die wir in Deutschland permanent eigentlich diskutieren müssen. Ich weiß nicht, dass hier ist, glaube ich, ein neues Thema. das Herrscher er hat die das Lassin der die 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 e quindi l'Islam, la questione del velo, e la questione del formarsi come una società musulmana parallela rispetto alla società italiana. Come Devo Filippo in Germania discorreste la qualità in Ciena molto frequentemente, molto molto noti. che lo sticchi è proprio un classici, un psicotrafico, un po' realistico parli�i. Il主wismo di un prossimo episodio è verificato e la finestra dei conversazioni, soprattutto di fatti. è verificato molto con sti che si riuscita a Esa. Ha anche un certo humor, che non ha mai avuto un ruolo. Il humor non ha mai avuto un ruolo, quindi si può vedere anche come teatro. dove l'umomismo gioca anche un po' di un certo uomo. E però abbiamo deciso di allontanarsi appunto da questa convenzionalità a cui poteva spingere, questo testo proprio per la sua diciamo tradizionalità, per la sua convenzionalità nel linguaggio e nella forma e ha proposto quindi agli attori di allontanarsi dal naturalismo del testo. Dalla tua attualità. I don't know, do you have the text? Did you read it? Avete letto il testo così. Send them immediately. Ok, so you don't know the text and you will ask me now about that. Sì, non ho letto il testo. Ok, maybe it's different, I will have to present the text to you for the test. Ok. Ok, quindi presentate adesso a voi il testo, il formiglione. Ok, also, dice che per lui è veramente molto importante il lavoro diretto con gli attori e di cui può dire di aver trovato una compagnia straordinaria, cioè un ensemble di attori straordinario, con cui ha trovato in maniera molto intensa per 4-5 settimane e può dire di essere assolutamente soddisfatto. anche il teatro stesso, il teatro stabile, ha molto, molto, molto. Dice che è molto soddisfatto con la prestazione della tutta organizzazione del teatro stabile perché aveva trovato una compagnia straordinaria e si appena parlavano con la produzione dell'agricoltura che ci hanno fatto una compagnia straordinaria che ci hanno fatto una compagnia straordinaria. In effetti, Eugenio ha molto lato per le sue scenografie assolutamente anticonvenzionali, da sua autonomia in Riena, faceva uso di Polina Kili di... Di Kiattsch. In Scena. Che donna la seconda. Buonissimo. Sì. E qui, in Turin, non c'è un luogo in New York, in 5th Avenue, con una soffaecca, con un estich, con una cucchia, ma... Qui, a Turin, una scenografia, come vedrete, non consisterà, in maniera un punto nazionale, come si potrebbe aspettare dal testo, di un interno, un domenico, di un salotto alto, borghese, con soffa e tutti i vari superlettri, ma invece... Carbone. Ui, carbone. Sì. 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 そんな Sì. 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 convection Weissäre be junto E dice che questo non significa che lui porti avanti una concezione di tipo decostruttivistico del teatro, non si dirà che voglia eliminare l'autore, eccetera, eccetera. Anzi, al contrario, è in contatto con Alia D'Aktar, sono anche, per via di questa produzione, buoni rapporti, sono amichevoli ed è molto contento di questa concezione, che ha sviluppato con c'è. Si vedrai, con questi cinque spieghi, un film che si tratta di un'agricchia, ma ha una dimensione quasi quasi existenziale, in cui mi ricorda che la produzione è un po' di Beckett o di Sanfri. Quindi, con questo spettacolo che ci siamo realizzati, con questi attori vedrete un risultato che si allontana un pochino da un tecnici troppo attuali, troppo politici e lascia emergere anche una dimensione esistenziale che vi ha ricordato un pochino il teatro di Summerfest. Grazie a tutti, intanto ci piace annunciarvi che non era così scontato, ma insomma è talmente soddisfatto di questo risultato che già nel corso di questa stagione, sul finire appunto della stagione 17-18 di Summerfest, sarà in scena al QB, il teatro di Marto di Baviera, che è uno dei tre teatri che dirige Martin. Prima vi accennavo di questa no comfort zone per lo spettatore, appunto portato da una dimensione di teatro di Bavieri, come diceva prima Martin, o insomma quasi di commedia borghese, in un contesto dove l'attenzione si focalizza sull'identità, sull'identità oggi dei musulmani americani che probabilmente vedono infranto il sogno americano che hanno nutrito sicuramente i loro genitori o le generazioni precedenti alle loro. Questa no comfort zone è una no comfort zone appunto per lo spettatore, ma non è pure degli attori ai quali io vorrei chiedere qualche battuta. Abbiamo attori, qualcuno sicuramente un po' più giovane e un po' meno esperto, altri che, insomma, se mettessimo in fila tutti i premi, le maschere, la critica che hanno vinto non basterebbero dieci pagine. Voi conoscete molto bene, avete frequentato le nostre scene, ovviamente parlo di Arbonco, Stovo Soletti, anche Anna Meralosa, che è stata qui diverse volte, le punte credo a String Meloni sulle nostre scene, è giovanissimo via. Però appunto farei spiegare anche a loro il senso del loro lavoro e l'essenza del loro personaggio, la trastigurazione, e lo dico con grande ammielazione, perché arrivati a questo punto della carriera hanno secondo me anche messo in discussione radicalmente, profondamente, forse alcune incertezze della loro personalità, perché ciò che mantiene richiede agli attori è uno sforzo, un impegno totale, totale, e lo vedrete, che il tutto, avendo sempre al centro il significato e il senso del testo teatrale, assume la dimensione di una vera performance, cioè il significato di un'arte performativa anche nella sua concezione estetica, dove l'attore deve concentrarsi su se stesso, sulla sua voce e sul proprio gesto, non avendo punti di riferimento, se non questo tappeto di carbone. Mi piacerebbe appunto chiedere nell'ordine di Giocandina, oppure partendo prima della stessa per provare il giocogliere con il microfono, qualche impressione di questo lavoro e qualche suggestione per i giornalisti. Buongiorno a tutti, indubbiamente aveva avuto Martin per quasi più di un mese, è stato secondo noi, posso parlare per tutti, una vera passeggiata di salute, perché non si può parare, cioè, conoscendo poco la lingua italiana, lo sguardo di Martin, per forza di cose ti restituisce autenticità al 100%, è una messa in scena così radicalmente opposta a quello che può suggerire un teatro naturalistico. in realtà esalta il testo, troverete momenti che magari in una messa in scena, con tutto rispetto ovviamente, possono passare come anche di servizio, che vengono messi invece sotto una luce diversa, vengono esaltati, il testo è più scolpito, i rapporti sopperrani tra i personaggi sono più evidenti, e tutto sembra un po' strano, perché le luci ombre vengono rinnovate, però, invece, in alcuni momenti, quando si fa anche bene, tutto può essere anche rivelatorio, insomma, di quello che tante volte si nasconde anche nei rapporti umani, eccetera. E, appunto, dicevo, non si può parare perché lo sguardo è molto attento su quello che fa il corpo, e su quello che fa il suono, quindi per uno straniero sei di torno al suono di quello che dici, e tu sei costretto, appunto, a tenutarti. Questa cosa è stata un viaggio appassionante, è un'operazione indubbiamente coraggiosa perché se passi da un blocco americano e hai invece una scenografia di questo tipo, lo spazio fondamentale non diventa più, come dire, tipo degli affigli di rappresentazione realistici, però è ancora più teatro, secondo me. Questo volevo sottolineare. Grazie Paolo. Paolo e Amir, diciamo, avvocato, il padrone di casa. Isac è il caosto del suo amico, diciamo. Per modo di dire, questo è un amico un po' preconceito. Senza spoilerare niente, ma guardatevi dagli amici di questo tipo. Amici e guardate. Sì, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Paolo. È stato un mese, qualche giorno in più, quasi un mese e mezzo, forte, appassionato, destabilizzante nel senso forte del termine, millimetrico. Questo ti mette in una condizione di ricerca, di autenticità costante, difficile, un equilibrio molto preciso e chiaro da portare in scena e questa è la grande sfida di questo lavoro. Elia. Elia è il nipote di Amir, il padrone di casa e, diciamo, con la sua passione giovanile è anche un po' l'amiccia, diciamo, che fa deflagrare la vicenda. Elia. Sì. Buongiorno, sono Elia. No, per me questa è la prima produzione importante che faccio. quindi non mi sono fatto nessuna domanda, non è stato preiettato questa cosa qui. Ho avuto una grande fortuna, grandissima, di lavorare con loro e con Martin. è stato molto interessante, molto, secondo me fondamentale, soprattutto anche per il mio lavoro d'attore, il fatto, cioè, la precisione, la profondità, mai superficie ma quello che ci sta sotto è molto umano il lavoro, e qui mi ha colpito molto anche la precisione, è come se fosse una partitura musicale proprio ben definita, diretta da un direttore. Per me è stato, sì, molto importante e con questi attori incredibili posso solo che assorbire tutto quello che posso. Grazie. Alla mia sinistra, Astrid Meloni, che rappresenta Jolie. Jolie è la compagna di Issa. Ecco, in questo contesto l'astrazione potrebbe far passare in secondo piano il fatto che sia un ritratto apparentemente e forse pochettamente perfetto l'integrazione del team pot, appunto, di un professore americano che dicevo prima. Amir è di origine, chiaramente, orientale, comunque asiatica. Isaac, chiaramente, di origine ebraica. Il suo riporto è, ovviamente, di Amir asiatico, però lui è un islamico. Jolie, nel test originale, è un avvocato aslo-americano, compagno, appunto, di Isaac e collega di Amir. Anche qui, apparentemente, una collega leale, in realtà, insomma, si scopre che è molto acquerita, molto accanita per una serie, appunto, di dinamiche che finisce per arrecare qualche danno, diciamo, a cambiare di Amir. Sì, no, io volevo dire una cosa che poi secondo me rappresenta tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Il primo giorno Martin ci ha detto io sono interessato all'essere umano e a come l'essere umano reagisce in situazioni estreme, no? E questo è tutto quello che abbiamo fatto sia tentando di rappresentare questa cosa, ma allo stesso tempo essendo messi in una situazione estrema, in cui abbiamo dovuto necessariamente, come diceva Paolo, spogliarci ed essere completamente onesti rispetto ai sentimenti dei personaggi, e alle posizioni dei personaggi, che sono personaggi difficili. Io, personalmente, è una donna estremamente determinata, pulitiva, però comunque senza pietà. Quindi accostarsi a un personaggio così mi ha dato la possibilità di aprire la mente, ma anche di affidarmi a un regista che mi ha consentito di non giudicare mai, appunto, di essere umano in queste situazioni estreme, ecco. E sono felicissima di essere accanto a dei dittori così bravi, generosi, accoglienti, e per me è veramente un onore avermi lavorato con loro, e soprattutto un'esperienza umana estremamente felice. Grazie. 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 E infine Anna della Rosa, moglie di Paolo Amir, è l'unica rostro, l'unica americana, l'unica che ci offre uno sguardo da occidentali, è paradossalmente l'unica che avrà parole di mediazione rispetto a questo scontro culturale, a questa messa in discussione di identità, nonostante subisca, insomma, questioni piuttosto scabrose, tra l'altro su tutto un altro fronte, molto molto di attualità come la violenza sulle donne. Allora, i miei colleghi che ci hanno detto tante cose così belle che non voglio essere ne ripetitiva, ne improvvissa, ma devo dire che è stato un enorme piacere, profondo, lavorare con Matti e con questa compagnia di attori formidabili. Sono occasioni in cui l'arte è una porta di accesso a ciò che è più profondo, pieno di senso e ignoto, riguarda la vita e dunque gli esseri umani e dunque gli spettatori e gli attori e gli artisti, e sono momenti di grazia in cui si esce dalla dimensione temporale che ci porterà alla morte, ma ci si lanciano i momenti di grazia eterni in cui si può veramente percepire fisicamente e quindi emotivamente, e quindi anche con l'intelligenza, l'abisso e dunque, sì, riguarda la questione islamica, il mio personaggio è un'artista bianca, cristiana, appassionata di tradizione islamica, dei mosaici, che era una pittrice, ma ciò che forse è esistenziale è appunto ciò che nel nostro passato determina il nostro futuro, come la tragedia greca e dal quale non puoi sfuggire, forse puoi tentare di combattere più o meno onorevolmente, e questo mi sembra prezioso, ma da tenere presente. di essere in carbone per sei ore, sono veramente come piccoli, il polvo in carbone è venuto da tutto, quindi è vero quello che dicono. Avete capito, no? Dice la sincerità è garantita dal fatto che da Regalos sono stati sottoposti da ogni versazione fisica, corporale, oltre che psicologica, perché Martin pretende tantissimo degli attori, ma nonostante quello che vi dicevo prima, cioè che loro stessi siano andati davvero, credo, oltre i loro limiti, diciamo ben oltre il ccml, in capo di scrittura, si è messa questa armonia progettuale, questa armonia estetica, insomma, questa è la parola che riassume meglio di tante altre, una grazia direi, una grazia creativa, ma spero che voi possiate coglierla. Tempo di domande, sebbene fossero, se non vi abbiamo detto tante cose, ma volentieri ce lo mi do, ma voi sarete curiosità ancora? Il spettacolo a Iona compriremo la compagnia. Certo. Andrà? Andrà con la compagnia, sì sì. E nonostante Martin abbia già prodotto con il suo diapo di Sgrace, ritiene che questo in qualche modo sia complementare a quella lettura, ma perché l'abbia firmato lui, ma perché è una lettura, abbiamo visto, con le edizioni completamente diverse. Tanto l'altra si appoggiava sui luoghi comuni dell'Argent House, una meravigliosa facciata sullo Fisterium, quando questa si allontagna. E' scontro? No, quella non era una sua regia, era una regia prodotta dal suo teatro e però non ha affidato a un regista ospite. In questo caso ci torniamo con questo suo spettacolo. Chi lo sa, magari ci inviterà con la botta di Vienna tra Pailani, e adesso era un'ipoteca, però appunto ci andiamo con questi attori perché mi ritiene che questa lettura sia cucita su misura su questi talenti. anche in Vienna c'è un show di questa parte, un altro show, quindi è molto buono comprare i diversi stili del show. Ho scritto il titolo tedesco, quindi puoi andare in Google e trovare magari 25 differenti tralli di 25 differenti stili. C'è una rappresentazione anche a Vienna con David Disgrace ed è bello che appunto ci siano un pari possibilità di comparare anche con l'imparazione che ne ha fatto lui e lui scriverà il titolo che è stato dato in Germania ed è stato tradotto anche ultimamente, c'era la possibilità di fare David Disgrace in modo che possiate cercare in Google e vedere i trader delle 25 più o meno quindi se unite sono in questo momento in giro insomma in Germania. Ecco, ha detto che non ho capito male che conosce Attara e quindi volevo capire insomma il suo rapporto con Darmaturgo come ha preso tutti questi cambiamenti che lei ha portato al suo testo. ha scritto altri quattro di Stefano e in novembre e in novembre andrà a New York perché il suo ultimo testo di Magdalen avrà soltanto a New York. e anche in Murcia e in Grigio 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 la ultima testo di Magdalen è rappresentata anche a Monaco nel primavera. e anche io mi devo dire che la traduzione dell'inglese e dell'italiano non era così acciabile non la traduzione così acciabile e ho parlato anche in vero anche in grigio e ho parlato in maniera parallela sempre anche con la traduzione del tedesco E qui nel lavoro con gli autori, con la truppe, abbiamo dovuto spesso lavorare appunto sul linguaggio del testo in modo da allontanarlo un pochino dal tono troppo letterario a cui era stato tradotto e arrivano invece più adeguato all'ubilezza, all'essenzialità che sono, all'immediatezza. Roberto, domani tu? Sì, mi encancio velocemente alla prima domanda e chiedo se ci saranno anche delle date italiane dello spettacolo e poi ho sentito parlare di una parete bianca e del carbone, volevo sapere se sono una cosa e l'altra. Se sono? Sia una cosa sia l'altra, cioè la parete bianca e il carbone. Sì, sì, ci sono sempre. Allora, se riguardano le date italiane, noi in genere facciamo sì, buttiamo a Torino, poi lasciamo decantare, vediamo quali sono le reazioni, la critica, il donatore, il mercato e poi mettiamo in circolazione la stagione successiva. Riguardo invece a questa manitea, contraposizione cromatica, materica, lascio che rispondo avanti. Sì, ovviamente, come potete immaginare, è anche una grande metafora, no? La unione di questi due colori che all'inizio si presentano molto separati e nettamente distinti uno dall'altro e come prima lui ha lasciato intendere, con la degenerazione della vicenda cromatologica, insomma, questa candidezza viene comunque compromessa, corrotta. Sì, quindi, in questo senso, la parola della Bibliote è stata creativa, come dal senso, quello che è stata creativa dalla storia, come la parola della criatura. come si è importante come il fatto che questa testa teatrale tematizza anche le attive arti più vettive, e quindi questa scenografia ha più a che vedere quasi potrebbe ricordare un spazio di esposizione in una musica piuttosto che un salotto in senso condizionale. Questo significa che anche gli autori sono quasi da osservare, da contemplare come opere d'arte esposte in uno spazio. Volevo che se avvi capito lo spettacolo che è in corso di presentazione in 25 teatri germani. Ci sono un lavoro, un bel grande nome. Invece al teatro volevo chiedere, dato che è un testo che è un argomento politico fortissimo, qual è stato il vostro pensiero per inaugurare una stagione con questa cosa? Il nostro pensiero nel raccogliere la proposta di Martin, perché in certi casi le direzioni artistiche dei teatri applicano di fronte a un'idea forte, assertiva del regista. Tanto più se si tratta di uno del regista autorevole come Martin, Martin voleva fare questo testo qui e ora. Per cui, insomma, non ci siamo neanche posti alla questione. È un testo necessario, è un testo dove non c'è una riga di retorica, è un testo che affronta il tema in maniera rovesciata. Non aspettatevi le solite riflessioni che leggiamo sui giornali o sui libri che vediamo in tv. È una traslazione del tema legata anche a una crisi identitaria di, come vi dicevo prima, milioni di musulmani che vivono nei paesi occidentali. Ed è una crisi, lo scrive Artara, nel fare riferimento anche, ma anche che forse possono comprendere paradossalmente meglio di noi europei occidentali gli afroamericani, che hanno vissuto qualcosa di simile relativamente alla propria identità. E qualcosa di simile lo hanno vissuto nel momento in cui ciò che si dava per assodato, cioè un'integrazione compiuta, è stata improvvisamente messa in discussione da tanti fattori. Il ritardo rispetto alla messa in scena di questo testo, pensiamo appunto che in Germania e in Austria e in Svizzera le edizioni sono già una ventina, ecco, denuncia un po' un ritardo atalico del nostro paese rispetto a un'altra cucina. In Germania, dobbiamo dirci. Purtroppo dobbiamo dirci. Ce n'è anche un altro in Italia, no? In realtà è a Genova. Quando Martin ci ha chiesto di mettere in scena questo testo, abbiamo ovviamente immediatamente immigrato sulla disponibilità e abbiamo scoperto che i giovani Jacopo Gassman tentavano di metterlo in scena da anni, senza trovare i produttori. Nel momento in cui abbiamo chiesto noi di mettere in scena questo testo, magicamente Jacopo Gassman ha trovato un produttore, che è il Teatro della Tosse, un ex teatro stabile di Genova, e che, devo dire, con grande disponibilità e generosità, perché all'epoca il Teatro della Tosse aveva un'esclusiva per mettere in scena questo testo, di fronte all'autorevolezza di Martin, all'autorevolezza del Teatro Stadio di Torino e all'amicizia, diciamo, tra i due teatri, tra i due direttori dei teatri, mia e nel caso specifico di Amedeo Romeno e di Manuel Le Conte, non ha avuto nulla in contrario perché si condividesse questa proposta. Il lavoro sarà fatto direttamente proporzionale alle loro forze in campo, che sono più piccole delle nostre, però a sottolineare il discorso che faceva prima Martin, cioè della necessità di confrontare le letture diverse di un testo così radicato nella contemporaneità, noi debuttiamo lunedì e Genova debutta martedì, e chi si presenterà a Genova con un biglietto dello Stadio di Torino avrà un fortissimo sconto e chi andrà a vedere lo Genova con il proprio biglietto avrà un fortissimo sconto a Torino. Quindi è una concertazione, diciamo, culturale ed estetica per offrire, a distanza di, insomma, pochi chilometri, due facce della stessa medaglia. Un'altra cosa che è abbastanza inusuale è aprire una stagione con un testo contemporaneo di un autore straniero, ci sono un sacco di sfide in questa apertura di stagione che in genere ci si muove di più sul tradizionale o comunque con... è proprio un segnale che volete lanciare. È un segnale forte, un segnale di innovazione, devo dire, ancora firmato da Mario, quindi non è connesso al passaggio di testimone nella direzione artistica, però un percorso che abbiamo costruito nel corso degli anni e forse oggi abbiamo acquisito la consapevolezza che è una direzione obbligata. Quindi l'esperienza degli altri stranieri eccetera, insomma, hanno portato anche a questo? Certo, funziona, è molto gratificante, io stamattina mi sono tornato a Lava e mi ero a Parigi a concludere con l'attività di produzione di Bolo de Homme per una tranceur, che saranno qui a gennaio. Insomma, è un network che noi vogliamo molto sviluppare e siamo felici che Martin, in questa nostra azione di posizionamento sullo specchiere europeo ci abbia scelti come partner anche del progettivo futuro. Per noi è, come dicevo prima, un onore, che è un vantaggio competitivo. Io ieri ho potuto invitare operatori importantissimi, non dico che non sarebbero venuti a Torino, ma avere qui i vertici del teatro di Ansgar, del Festival d'Otona, del Teatro dell'Odeon, per fare questa produzione, è possibile, non voglio dire soprattutto, ma anche e soprattutto perché c'è una firma di Martin Pugge che garantisce un spettacolo di respiro per l'orario. Io parlo forte, quindi anche sempre trovo. E anche, mi sembra, se è così la volontà, tu hai detto un'innovazione, certo, l'apertura di stagione come uno spettacolo, così la volontà di ritornare a considerare il teatro come capace di descrivere la società contemporanea, alla quale, in un certo senso, anche il teatro aveva come abilitato, oppure nei fatti, e invece questo è anche inteso come questo, è un compito ideale, importante. Lo è, e se possibile si va ancora oltre, perché Martin ha connotato tutta la sua carriera con un costante impegno politico, anche nei testi più classici, che ci ha posto il fatto politico al centro della propria estetica e del proprio mestiere, anche di un uomo di teatro. Qui se vogliamo andiamo oltre, perché se ci fermassimo alla sola dimensione politica, dico solo tra virgolette, probabilmente ci faremmo troppo condizionare dalla cronaca e dall'attualità. Quello che Martin fa è partire dalla cronaca e dalla politica per fare dei ragionamenti molto più ampi, sono dei ragionamenti, direi, universali, non voglio esagerare, ma esistenziali, ci concorrà per mano in questo processo molto sottile. Avrebbe potuto fermarsi alla dimensione politica, come hanno fatto, credo, quasi tutti quelli che hanno affrontato questo testo. Mi pare che la peculiarità della lettura di Martin sia di andare decisamente oltre. anche un'altra cosa, perché questo play, questa frase, non è solo un tema di islami e moslimi in società, ma è molto più una questione di identità. E la questione è, chi sono io? anzi, un'altra cosa che mi piaceva per la mia vita nella mia vita, perché la comunità è molto importante, perché io vivo in un Paese di Dramannia, ho i rooti in Slovenia, avrei ho trovato in me, ho avuto, lo vedo in questo che posso sapere che ho trovato. Un nome è un po' s particolare, quindi ho lasciato molto di fare questo un nome, questo per me è importante per la mia idea di Italiano. e ho dovuto capire chi sono io, ho dovuto imparare la lingua, ho dovuto parlare in slovena, ho lavorato in questo paese, ma mia madre, per esempio, diceva in casa che nessuno ha parlato slovena, quindi ho avuto questo programma di identità, combinato con la lingua, che è, ovviamente, la nostra identità, in mio mio figlio, tutto il tempo. Quando ho metto uno, non so, un anno fa, un anno fa, in Roma, mi ha chiesto, perché voglio fare questo, e ho detto, non sull'Islam, sull'identità, sull'identità. Questo è qualcosa che è interessante per tutti, e questo è la dimensione politica in questo paese. Un classico, una tragedia greca, come dicevamo. Esatto. Un'informazione di servizio, almeno su una cosa siamo i battitrini della Residence Theater, da lunedì avremo una nostra app, e a Residence non c'è l'incona. Saremo il primo teatro scatole pubblico italiano, insomma, voi direte che dovete svegliare prima, ma così è. Saremo il primo teatro pubblico italiano, il primo teatro ovviamente di Torino, e troverete tutte le informazioni, in questi giorni sarà ancora più facile, in pochi secondi, comprare un biglietto e avere tutte le informazioni in tempo reale per finire la nostra stagione, e insomma, prometto molto bene. Grazie a tutti. Grazie.